Vodafone, esternalizzati dall'azienda... Sternalizzazione 2011, Vodafone meno 335 dipendenti, la rete. Eppure dell'azienda viene ceduta senza troppi di guardia. Noi siamo qua a protestare perché è un'azienda in netto ricavo, non può esternalizzare le persone così senza avere nessuno scuro. L'azienda inglese che esternalizza degli italiani non sembra una cosa troppo bella, dove farli cali ci tratta in questo modo, non è corretto, non è giusto.